Ciao a tutti, oggi vi presentiamo Cliped, è un nostro prodotto, un'esclusiva di elettronica didattica. Vediamo di cosa si tratta. Questa lente e questo meccanismo. Il meccanismo è basculante e si applica a tutti i tipi di occhiali in questo modo. Posso alzarlo per guardare lontano oppure abbassarlo quando mi serve. Si può utilizzare con lenti a diverso ingrandimento. Questa ad esempio è un 3x, ma togliamo la lente e la sostituiamo con ad esempio un 6x. Più è forte la lente e meglio riusciamo a vedere i particolari. Questo è il 6 ma possiamo arrivare anche fino all'8. Ecco qua, questo è un 8 ingrandimenti. Con 8 ingrandimenti si possono vedere delle cose veramente minuscole. Può essere utilizzato su tutti gli occhiali. Lo potete utilizzare per elettronica, fai da te, modellismo, orologeria, bigiotteria. È un oggetto molto utile anche per togliersi una spina dalle mani. Vi saluto, spero vi sia piaciuto questo video. Se siete interessati a questa lente visitate il nostro sito elettronicadidattica.com Io vi aspetto per i prossimi video e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale elettronica didattica. Ciao a tutti!